Sare tenuta più in considerazione da Holt a muro più da Santa Orduna Ancora con la palla piazzata di Orduna che va a servire Maxwell Holt che salta, che parte da dietro e va a trovare il punto numero 7 Tenuto in frigorifero nel set precedente Maxwell Holt è ritornato a dare consistenza